Buona serata Michele Pappagota, allora secondo voi per quale motivo ha creato il giornalino di Amalfi? Allora, prima cosa mi presento, sono Michele Pappagota, sono io, sono il direttore del giornale elettrico di Amalfi Online questo giornalino è nato per dar spazio a tante persone diversamente abili, chiusi tra le quattro mure domestiche che attraverso lo scrivere un pensiero, una frase, un articolo, un qualcosa, dare spazio anche a questi ultimi come me in possibilità di uscire e dare sfogo alle loro esigenze, alle loro fatte, ai loro pensieri, al loro sapere Bravissimo, secondo voi se le persone vengono aiutate oppure devono essere abbandonate, secondo voi cosa ne pensate? Io penso che queste persone vadano incendivate in tutti i sensi, creare sempre attività ludiche, istruttive, attività d'arte DL come l'informazione, come creare delle istituzioni, dei punti di incontro, dei punti di spago affinché anche queste persone diversamente abili, diciamo sfortunati dalla vita, possano essere fortunate in altre situazioni come nello scrivere, nello leggere, nello informarsi, nello imparare sempre di più Bravissimo, noi diamo una buona serata, un buon pomeriggio, vi salutiamo, arrivederci La ringrazio, buona serata